Più che un successo, diciamo che siamo arrivati tra le 3.500 e 4.000 scatole ricevute, per cui direi che è decisamente un successo. È scattata nel fine settimana l'operazione consegna delle scatole di Natale, i pacchi dono realizzati con generosità e fantasia destinate a persone sole o in difficoltà. A farlo una settantina di volontari del CISOM, che in divisa d'ordinanza rossa, come tanti Babbo Natale, hanno vissuto l'esperienza della consegna dei pacchi inaspettati, offerti da donatori sconosciuti. La parte è molto bella perché andiamo proprio direttamente a consegnare questi doni, doni inaspettati, a persone che hanno più bisogno di noi. Abbiamo cominciato a consegnarli direttamente ai senza tetto che seguiamo noi come CISOM, come unità di strada. La novità di quest'anno, i doni destinati alle nonne e ai nonni delle case di riposo. È stato bellissimo vedere persone anziane in casa che hanno ricevuto questi doni proprio inaspettati, con dei biglietti bellissimi, gentilissimi. È molto bello vedere le varie realtà, anche perché comprendono dalla fascia bebè sino ai nonni, i pacchi che sono colorati, sono piacevoli, danno un senso di festività a queste varie comunità. Quella che ci ha colpito di più è stata la settimana scorsa quando abbiamo incontrato Grego, un senza tetto di origine polacca che vive da tanti anni a Vicenza, prima lavorando, poi da alcuni anni dormendo in strada, che ci ha detto che tornava in Polonia e ha voluto fare un video con noi per ringraziare noi, ma non solo noi, ma tutta la città di Vicenza, la solidarietà e il cuore della città di Vicenza. Dove famiglia? Di qua come famiglia, tutti squadra. Vicettini, grande cuore, complementi Gregorio, alleluia, amen. E buon Natale, buon Natale.